Provolone e Valpadana, Salva Cremasco e Taleggio. Le tre eccellenze casearie lombarde trovano spazio in cucina in una molteplicità di declinazioni. La Casa di Altiformaggi a Treviglio si pone l'obiettivo di divulgare la conoscenza delle caratteristiche delle tre D.I.O.P. organizzando presso la sua sede incontri formativi e show cooking. L'evento organizzato il 10 febbraio scorso ha avuto come tema gli alti formaggi nella cucina mediterranea. Protagonista della serata Giuseppe Ricchebuono, da 14 anni Stella Michelin, chef del Il Vescovado di Noli, un locale che si trova in un magnifico edificio storico affacciato sul Mar Ligure. Il tema dell'evento è stato quindi affidato ad uno chef creativo e di grande esperienza, la cui cucina trae ispirazione dal Mediterraneo. Questa sera abbiamo presentato le tre eccellenze caseare lombarde, ossia il Taleggio, il Provolone e Valpadana e il Salva Cremasco, abbinato a una cucina mediterranea. Abbiamo iniziato con il Taleggio, il Taleggio fasciato nel couscous e da qui appunto siamo partiti dal profondo, diciamo sud del Mediterraneo, per poi risalire abbinandola a una zuppetta di pomodoro e basilico fresco. Come primo piatto abbiamo presentato un piatto molto sfizioso, un tortello farcito di peperoni ed emulsionato con all'estravergine, quindi vedete proprio il Mediterraneo all'interno di questa sfoglia, poggiato su una fonduta di salva cremasco. Infine abbiamo terminato presentando il piatto più importante della serata, una triglia sfilettata con provolone e valpadana, un grattugiato di provolone e valpadana appena passata in forno con una crema di mela Pink Lady. La sorpresa maggiore della serata è stata la versatilità di questi tre formaggi che incontrando una cucina lontana dal loro territorio hanno saputo dimostrare al meglio le loro caratteristiche. Il pubblico ha apprezzato moltissimo questi piatti che sono riusciti a combinare le caratteristiche di una cucina tipicamente di mare con la territorialità della pianura lombarda. Il prossimo appuntamento alla Casa di Altiformaggi è fissato per il 10 marzo. Nicola Batavia, chef del ristorante Il Birichin e del bistrò Dieg di Torino, presenterà provolone e valpadana, salva cremasco e taleggio nella cucina anglosassone.